Allora, stasera parliamo del pensiero che crea la realtà. Dal pensiero alla realtà, come realizzare i tuoi desideri? Ho scritto nel post di presentazione di questa diretta. Non riesci a raggiungere i tuoi obiettivi? Il cambiamento inizia dentro di te. Se continui a vedere gli stessi risultati, forse è perché stai agendo allo stesso livello di consapevolezza che ha creato il problema. La tua mente è il punto di partenza. Pensieri, convinzioni ed emozioni creano la tua realtà. È il momento di guardare all'interno, di agire su di te. La vecchia strategia di concentrarsi solo su ciò che è fuori è inefficace e faticosa. Il vero potere è dentro di te. Riprendi il controllo e trasforma la tua vita. Oggi parliamo di come lavorare sul mindset e sulle proprie frequenze per ottenere risultati concreti. Questa è la premessa. Diceva Einstein, non puoi risolvere il problema dallo stesso livello di consapevolezza dal quale l'hai creato. Quindi non puoi risolvere un problema dallo stesso livello di consapevolezza dal quale l'hai creato. Tu puoi trovare la soluzione solo se ti sposti su un altro livello di consapevolezza. Se rimani nel livello di consapevolezza del problema, il problema non lo risolvi. Questo è alla base della nostra crescita. Noi evolviamo e cresciamo in continuazione, perché la vita di ogni giorno ci porta le nuove sfide, i nuovi problemi per spingertici a cercare le nuove soluzioni. Noi normalmente, quando siamo nei meccanismi della vita quotidiana, non guardiamo dentro. Secondo, allora, normalmente vediamo solamente ciò che è il risultato dei nostri pensieri, delle nostre convinzioni, delle nostre emozioni. Vediamo solamente ciò che prestiamo attenzione a ciò che percepiscono i nostri occhi. Reagiamo a ciò che il mondo ci riflette come conseguenza dei nostri pensieri. Meglio. Il vecchio modo di fare era proprio questo. La vita capitava a me e io reagivo di conseguenza. Ed era tutta una lotta contro il tempo, una lotta contro le leggi universali. Mi succedeva qualcosa, allora io cercavo di riparare ai danni. Questo era il vecchio modo di fare. Volevo avere qualcosa, mi dovevo impegnare di più. Forse mi andava bene, forse mi andava male, ma comunque una cosa era certa. Che faticavo da morire. E adesso questa cosa si è accentuata ancora di più. Adesso il tempo sembra che si è abbreviato, che passa più velocemente. Sembra che abbiamo sempre più cose da fare, che siamo sempre più indafarati, che dobbiamo lavorare sempre di più per avere poco in più di guadagno. Per portare, dobbiamo fare tanti straordinari per avere un minimo di più. Sembra che la vita è sempre più complicata. Sì, lo è. Ma lo è solo per chi rimane nel vecchio modo di fare. Il vecchio modo è proprio fare, fare e reagire a quello che ci porta alla vita. Il nuovo modo di fare, quello più scorrevole, quello meno faticoso, quello del quale parliamo qua nel metodo MCA, è il modo di fare partendo dalla causa, non dall'effetto. Il momento in cui io reagisco alla vita, io reagisco all'effetto invece di quello che ho creato. Invece noi dobbiamo partire dall'inizio, dobbiamo partire dalle nostre frequenze, dobbiamo partire da rivolgere lo sguardo al nostro interno e comprendere che sono le nostre frequenze che creano, comprendere che sono i nostri schemi di pensiero che creano la nostra realtà. Dobbiamo comprendere che sono le nostre emozioni che attraggono le determinate situazioni. Quindi se io incontro un tradimento, sia nella relazione, che incontro un tradimento anche a livello lavorativo, perché magari hanno promosso qualcun altro non me e lo vivo come un tradimento, perché io mi sono impegnata, anche nella relazione ho dato di tutto e ho ricevuto in cambio il tradimento, non reagisco al tradimento. Ormai è fatta, se non voglio ripetere questo schema nella vita, devo guardare dentro di me, devo accettare la situazione che hanno dato la promozione al lavoro all'ultimo arrivato, devo accettare la situazione che non significa rassegnarsi. L'uomo del futuro, l'uomo di domani, diventerà l'uomo consapevole. Consapevole. Che significa? Significa prendersi la responsabilità di quello che abbiamo creato, anche se non è esattamente come lo abbiamo sognato e desiderato. Significa che il nostro interno, che la nostra mente, che le nostre emozioni, le nostre frequenze, non sono allineate con quello che desideriamo. Se io desidero qualcosa e quella cosa non accade, ma accade il contrario, o magari si sfascia tutto strada facendo, significa che il mio interno non è congruo con quello che desidero. E adesso il lavoro consapevole, il lavoro della nuova era, che tutti lo dobbiamo imparare, è rivolgere lo sguardo interno, vedere quello che abbiamo creato come una proiezione, come un ologramma, come un effetto di ciò che ho dentro, e sapere che finché non cambio dentro, le situazioni si ripetono, che continuo a ricreare gli stessi schemi. Se io ho creato un tradimento, anche se sono stata la vittima, tra le virgolette, del tradimento, perché l'ho subito il tradimento, comunque se c'è stato il tradimento, l'ho creato io, perché avevo la frequenza del tradimento. E il mio compito è adesso andare a decodificare dov'è questa frequenza e cambiarla. Cambiarla come? Cambiando pensieri, cambiando convinzioni, cambiando le emozioni. per elaborare questa vibrazione del tradimento, per liberarla e creare espansione, espansione del mio sistema nervoso, insomma espansione del mio sistema energetico, in modo che il tradimento non faccia mai più parte della mia vita. Questo è il nuovo modo. Io devo diventare, passare, vi ricordate questa? Noi viviamo nel mondo duale, quindi posso essere o sottostimata, svalutata, tradita, oppure posso vivere nel successo. Sono due frequenze, è la stessa frequenza, due opposti, perché il mondo è duale. Lavoro su di sé è accettare la situazione attuale. Ok, l'ho visto, lo riconosco, l'ho creato io, adesso, pian piano, attraverso accettazione, creo la frequenza opposta. Sono stata sottostimata, mi riempio di autostima, divento la persona più sicura di me, divento, comincio ad amarmi, comincio ad accettarmi, comincio a darmi tutte queste qualità che mi sono state negate dall'esterno. Conosco a riconoscere, comincio a riconoscere in me apprezzamento, amore, comincio a riconoscere queste qualità e divento una persona nuova, divento una persona che è sempre stimata, che è sempre valutata, che è sempre promossa, che divento una persona che è amata dal proprio partner, che è unica negli occhi del proprio partner. E come faccio? Cambiando le mie convinzioni, perché se io credo di non valere, il mondo mi dimostra che non valgo, che io credo di essere, temo la concorrenza, sia nel lavoro che nelle relazioni, perché penso che qualcuno può essere meglio di me, significa che mi metto nel paragone, che mi metto nel paragone e paragonarsi con gli altri e comunque non percepire il proprio valore, non riconoscere il proprio valore. Quindi quando comincio a credere in me, credere, quindi installarmi le credenze potenzianti e so di valere, so di essere una persona che può avere tutto e può realizzare tutti i desideri, allora il mondo comincia a dimostrarmelo. Quindi il vecchio modo di fare, il vecchio modo di agire nel mondo è fare, fare, fare e pensare e sperare, sperare che il risultato sarà diverso. Ma noi non possiamo avere risultati diversi se sempre agiamo nello stesso modo. Noi dobbiamo prima cambiare dentro, prima dobbiamo diventare delle persone diverse e solo dopo intraprendiamo azioni diverse e solo dopo raccogliamo i frutti diversi, solo dopo cambiano le situazioni esterne. Vedo che vi state collegando, mi mandate un sacco di... di buonasera, buonasera a tutti. Allora, noi dobbiamo cambiare la frequenza, dobbiamo cambiare la frequenza e la frequenza principalmente si cambia agendo su due elementi. Quella che è più conosciuta, che possiamo sentire di più è l'emozione. Noi sentiamo molto bene le emozioni. Le emozioni, abbiamo detto che non le chiamiamo più le emozioni positive e negative, c'era un periodo che le chiamavamo dell'ottava bassa e ottava alta, adesso le chiamiamo emozioni di contrazione e le emozioni di separazione. Le emozioni di contrazione sono quelle che ci allontanano dai nostri obiettivi. Le emozioni non sono altro che energie in movimento. Quando parliamo delle emozioni di contrazione, le emozioni di contrazione sono pesanti, sono quelle che ci allontanano dai nostri desideri e creano le tensioni nel nostro corpo, si accumulano come palle di energia bloccata nel nostro corpo. Quindi queste emozioni bloccate che creano, creano disequilibri nell'organismo che possono trasformarsi nei dolori, nelle malattie, nei sintomi fisici. Questo a livello fisico, quando le emozioni sono molto bloccate, creano sintomi fisici, dolori, acciacchi, non lo so, torcicollo, queste cose qua. O magari mal di spalla, mal di gambe, eccetera. Anche dolori interni. Quando emozioni, invece a livello proprio della vita concreta, queste emozioni congelate comunque mandano delle frequenze. E voi sapete che tutto è energia. E il mondo esterno risponde alla nostra frequenza, alla nostra vibrazione, alla nostra energia. Quindi se noi abbiamo le emozioni bloccate, le energie... Mandiamo comunque, a livello energetico, questo segnale. Quindi se io ho l'emozione di tradimento bloccata nel mio corpo, io vado in giro e trasmetto al mondo il tradimento. Che succede? Tra mille persone, dove arriva il tradimento? Arriva da me, perché vibro il tradimento. Lo stesso paura, lo stesso sensi di colpa, lo stesso... ho la sensazione di rifiuto, di abbandono, di mancanza di sostegno. La sensazione... Il peso delle responsabilità. Se io ho le frequenze di peso di responsabilità, troverò sempre delle situazioni che tutti scaricano su di me, scaricheranno su di me la responsabilità e sentirò sempre più sopraffatta delle responsabilità che mi incollano addosso. Ma non sono le persone che me le incollano. Sì, nel concreto sì, ma questo è solamente effetto, effetto finale. La causa è la sensazione che provo e poi magari questo peso delle responsabilità alla fine sfocia nel dolore alle spalle. È successo a qualcuno? Quindi le emozioni sono quelle che attraggono. Spesso noi non sappiamo neanche che abbiamo queste emozioni bloccate, perché siccome le emozioni di contrazione creano proprio uno stress enorme al nostro organismo, siccome sono spiacevoli quelle emozioni di contrazione, allora noi non le vogliamo sentire e abbiamo creato dei meccanismi di autodifesa. Siamo bravissimi a non sentire le emozioni. Ma proprio siamo diventati maestri. Spesso razionalizziamo, quindi creiamo sopra delle strutture mentali per spiegare, no, poverino, lui, certo non si poteva prendere questa responsabilità al lavoro, me la dovevo prendere io. E stiamo giustificando. Reprimiamo di nuovo le emozioni, perché magari sotto sotto, davanti a noi stessi, siccome vogliamo essere brave persone, giustifichiamo l'altro. Sotto sotto proviamo odio per la persona, guarda questo qua, che doveva fare questa cosa, non l'ha fatta, la devo fare io. E devo prendervi la responsabilità di questo compito da svolgere. Quindi reprimiamo le emozioni, ma le emozioni represse comunque creano, attraggono la realtà che non vogliamo. Quindi la prima cosa sono le emozioni e qua più siamo precisi a sentire, più abbiamo coraggio a sentire le emozioni, anche se abbiamo, qua bisogna essere abili ad andare a scoprire che emozioni proviamo, andare a decodificare queste emozioni e spacchettare, perché abbiamo, nel meccanismo di autodifesa, le abbiamo compresse, impacchettate bene bene per non vedere. Quindi più siamo abili, più possiamo influenzare le nostre frequenze, le nostre vibrazioni, liberando queste emozioni ed elevando le nostre frequenze, perché queste emozioni di contrazione sono le emozioni basse. Quindi questo è un elemento. L'altro elemento sono i pensieri. I pensieri, noi facciamo tantissimi pensieri al giorno è difficile, praticamente impossibile controllare i pensieri. Quello che possiamo fare, possiamo calmare la mente. Possiamo calmare la mente come? Agendo sulle convinzioni. Allora, i pensieri ripetuti mille volte, infinite volte, diventano pensieri cronici, ossia diventano le convinzioni. Quando i pensieri sono ripetuti infinito numero di volte, noi non ce ne rendiamo più conto che abbiamo questi pensieri, cioè passano inosservati. Un po' come quando voi entrate in un ambiente dove c'è un odore sgradevole, anche piacevole, un odore particolare. All'inizio, prestate attenzione a questo, fateci caso, tutti facciamo caso a questo odore. Dopo qualche minuto ci abituiamo e questo odore, che all'inizio poteva essere molto percepito, o negativo, o bello, o brutto, quello che è, dopo un po' non prestiamo attenzione, perché la nostra mente è fatta così, le cose che sono, che noi ci abituiamo alle cose, ecco, in questo modo. Quindi anche ai pensieri noi dopo un po' ci abituiamo e non prestiamo attenzione, che anche questo non significa che non creano la realtà, anzi, proprio quello che è fuori dalla nostra consapevolezza crea la realtà che non voglio. E qua di nuovo, io osservo il mondo all'esterno, lo riporto dentro, trovo la convinzione e le convinzioni la buona notizia che possono essere cambiate. E possono essere trovate e cambiate anche velocemente. Le convinzioni sono come i programmi della mente subconscia, che è una mente molto potente, la nostra mente è fatta di due parti, quella razionale, quella consapevole, e la parte non consapevole, quindi parte subconscia, la parte subconscia è molto veloce, molto performante ed è quella che ci porta alla realizzazione dei nostri desideri, perché riesce a captare, ad attrarre delle coincidenze nella nostra vita che la mente razionale non può prevedere. Allora, adesso tutto sta nel farsi amico della nostra mente subconscia, perché quando la mente... Perché? La mente subconscia è programmata in modo di non cambiare, quindi di non portare cambiamenti nella nostra vita. La mente subconscia è abitudinaria, è molto potente, però vuole che le cose stanno come... restano come stanno, rimangono come sono, invece noi ovviamente vogliamo realizzare i nostri desideri, vogliamo avere il successo, vogliamo stare in salute, vogliamo avere le reazioni premianti, vogliamo trovare amore della nostra vita e vogliamo avere questa promozione al lavoro o magari vogliamo avere un lavoro autonomo e guadagnare un sacco di soldi, ok? La mente subconscia non lo vuole perché dice no, io rimango qua dove sono che sto bene, sono viva e sto bene, quindi penso alle mie cose. Per realizzare ciò che vogliamo dobbiamo convincere la mente subconscia di stare dalla nostra parte. Quando riusciamo a farlo la vita diventa uno spasso ed è un continuo un successo continuo in tutti i campi della nostra vita la mente subconscia è talmente potente che può si dice ho scritto anche un post forse recentemente non mi ricordo dove l'ho messo perché lo cito sempre può rendere la nostra vita un inferno o un paradiso perché se ci si mette contro creerà tutti impedimenti tutto immaginario anche quello che non possiamo immaginare creerà tutte le coincidenze particolari per non realizzare ciò che vogliamo questo quando non è allineata con i nostri desideri quando invece è allineata con i nostri desideri tu puoi anche non sapere come non sapere quando ma ti arriva ciò che la tua mente subconscia vuole farti arrivare e questa è la meraviglia della riprogrammazione della mente e questo è il potere del pensiero che crea il pensiero sì il pensiero inteso come intenzione come obiettivo come desiderio il pensiero l'intenzione lo possiamo chiamare anche il pensiero che è inteso come preghiera perché l'intenzione è una forma di preghiera dipende poi come la vogliamo chiamare quindi il pensiero sì ma al pensiero devono essere agganciate le frequenze le frequenze sono fatte dalle convinzioni e dalle emozioni ok ogni convinzione genera fa vibrare determinata emozione le emozioni supportano le convinzioni ok perché se io vibro paura ogni emozione può avere un miliardo di convinzioni agganciate perché io posso avere paura del buio paura di restare da sola paura dei posti affollati io posso avere paura di non avere abbastanza soldi posso avere paura di non stare in salute posso avere paura di essere tradita e quindi tutte queste situazioni hanno un sistema di credenze depotenziante depotenzianti sistema di credenze depotenzianti che alimentano la paura ok quindi si vanno a braccetto quindi quello che dobbiamo fare agire o sulle emozioni o sulle convinzioni oppure su entrambi oppure su entrambi allora se mi conoscete io sto insegnando queste cose da dal 2020 ho cominciato nel 2020 sono 4 anni 4 anni nell'arco di 4 anni ho creato diversi corsi diciamo che il mio metodo metodo MCA il primo passo importante era sempre il comando MCA comando MCA è una procedura fenomenale fantastica è una procedura di 10 passi ci sono delle cose da fare quindi delle mosse da fare delle parole da pronunciare c'è anche un file audio da ascoltare in mezzo una procedura all'inizio sembra complicata però dopo che l'hai fatta 2-3-4 volte è facile per farla ci metti 3-4 minuti in tutto e che cosa fa il comando MCA il comando MCA riprogramma a livello profondo a livello subconscio le tue convinzioni limitanti tanto è vero che uno dei dei successi che veramente è fenomenale mi arrivano i vostri i vostri le vostre testimonianze tante tante ma una delle una delle non posso essere delle più belle perché sono tutte belle oggi mi è arrivata una notizia meravigliosa che non posso dire che ancora è un segreto bellissima bellissima ciao Cinzia e sì mi sono emozionata ecco tanto Cinzia mi ascolterà allora ad un workshop a un webinar un annetto fa credo si è iscritta una signora che oggi ha 71 anni all'epoca aveva 70 anni credo intorno che voleva fare la patente di guida solo che l'hanno bocciata già due volte perché dice che l'istruttore mi ha detto che io sono un pericolo pubblico e questa signora ha fatto il corso del comando MCA abbiamo faticato un po' perché perché le convinzioni limitanti erano tante perché dopo due fallimenti la mente subconscia diciamo si è le convinzioni limitanti erano tante ok dopo che abbiamo subito fallimento una volta due volte tre volte si sono ecco le convinzioni limitanti si sono potenziate però lei è stata bravissima non ha mollato ogni tanto mandava un messaggio nel gruppo ogni tanto mandava un messaggio a me ha fatto un paio di sessioni individuali pure con me e ha lavorato sodo ha lavorato sodo ha lavorato dentro la macchina intanto non l'ha presa non l'ha guidata anche perché non aveva la possibilità di fare lezioni di guida per una nuova per fare di nuovo le lezioni di guida si è impegnata ha lavorato con i comandi ha lavorato dentro di sé ha lanciato i comandi che io ho una patente di guida e tante altre tante altre convinzioni limitanti e a luglio lei ha preso la patente ha fatto l'esame e ha preso la patente questo è il nuovo modo di fare poi si dopo che ha riprogrammato la mente ha fatto anche le lezioni però l'esame è riuscito a superarlo e questo è il nuovo modo di fare è inutile continuare sul vecchio metodo continuare con lo stesso metodo e rifare sempre gli stessi errori prima cambio dentro quando ho cambiato dentro la mia mente subconscia ha capito ok forse avere la patente non è tanto male forse posso farlo ho il nuovo potenziale mentale allora là è andata è andata è così che funziona e così è stato per me così è stato per me io ho cambiato completamente la mia vita grazie alla riprogrammazione mentale ecco infatti adesso ho ripreso il filo quindi il comando MCA ti permette di cambiare la convinzione all'istante e impostare i tuoi obiettivi all'istante quale potrebbe essere l'obiettivo ho una macchina nuova tante persone io per prima macchina nuova lanciato il comando dopo un po' tutte le coincidenze portano la macchina nuova e quindi questo è il mio diciamo il comando MCA è la cosa è la procedura è il metodo per eccellenza per riprogrammare la mente adesso però c'era una difficoltà quando abbiamo fatto il corso del comando poi ho lasciato anche i book ho cercato di fare mastermind ma diverse persone non riuscivano a lanciarlo perché non sapevano dove trovare queste convinzioni adesso dopo prove ricerche eccetera ho visto ho trovato un metodo molto più facile per decodificare le convinzioni infatti adesso il 12 novembre comincia il metodo MCA Academy quindi il mio corso il corso del metodo MCA modificato migliorato perché migliorato perché noi cominceremo dalle emozioni perché cominciando dalle emozioni è molto più facile arrivare alle convinzioni quindi noi impareremo a decodificare e liberare le emozioni congelate nel corpo impareremo anche come scavalcare la mente che non ci vuole far sentire le emozioni impareremo come dialogare con la mente subconscia e come scavare dentro per trovare le convinzioni limitanti perché per poter cambiare una cosa la dobbiamo trovare quindi andiamo a trovare le convinzioni limitanti andiamo a cambiarle il comando MCA è così efficace perché abbiamo detto all'inizio di questa diretta non puoi risolvere un problema dallo stesso livello di consapevolezza dal quale è stato creato il comando MCA viene dato dal livello del sé superiore di questo non abbiamo parlato è per questo che la mente subconscia non può che accettarlo è per questo che viene riprogrammata così velocemente in più nell'academy faremo un passo successivo andiamo ad allineare mente cuore anima perché stiamo parlando delle vibrazioni lavoreremo sulle emozioni sulle convinzioni e poi andiamo a fare allineamento della mente cuore anima e andiamo a lavorare con il corpo di gloria che è il corpo animico quindi impareremo un'attivazione energetica per lavorare proprio al livello delle frequenze andare oltre emozioni oltre convinzioni andiamo proprio a lavorare la vibrazione per cambiare la vibrazione interiore per insegnare il nostro sistema nervoso la nuova nuova vibrazione per realizzare tutto ciò che vogliamo realizzare in qualsiasi campo della vita salute relazioni abbondanza successo quindi se volete le iscrizioni sono aperte cominciamo il 12 che è martedì tra una settimana quando noi parliamo di lavoro interiore quindi quando vogliamo cambiare le situazioni della vita non si lavora mai sul generico ma si lavora sempre sulle situazioni specifiche perché la nostra mente è un enorme database e contiene tutte le memorie tutte le informazioni tutto ciò di cui noi non siamo consapevoli non so se avete visto la mia storia oggi su instagram e su facebook io da stamattina già da ieri sera stavo un po' giù e non capivo non capivo proprio non vedevo il senso della vita non ho scritto però in sostanza vedevo proprio la vita per me non aveva senso non capivo perché 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 finché non mi è arrivata una notifica di facebook esattamente un anno fa una storia che ho messo un anno fa quando stavamo a pranzo con il mio compagno e ci è arrivata la notizia che ha cambiato per sempre la mia vita una notizia bella tosta e una volta allora io stavo male tutta la mattina cercavo di fare qualcosa senza guardarmi dentro perché non proprio non vedevo senso neanche nel lavoro interiore una volta che ho portato alla consapevolezza quindi è uscita fuori la memoria della notizia che io a livello razionale non lo sapevo ma il mio subconscio lo viveva già perché il subconscio è come un computer potentissimo sapeva che oggi è il 4 novembre e sapeva che un anno fa esattamente un anno fa successa questa cosa che è arrivata la notizia quindi si è riattivata la sofferenza ok una volta che attraverso la coincidenza che facebook grazie facebook mi ha aiutato a portarlo alla consapevolezza alla luce il ricordo io ci ho messo tre minuti per cambiare per cambiare la mia percezione perché attenzione noi non possiamo cambiare il passato ma possiamo cambiare la nostra percezione del passato noi quello che dobbiamo fare rilasciare le emozioni di contrazioni di contrazione rilasciare le memorie dolorose accoglierle nel cuore e cambiare la frequenza e rimane il ricordo ma non c'è il dolore legato al ricordo è questo che ci fa alzare le frequenze voi immaginate come se fosse una mongolfiera finché c'è il dolore è come avere i sassi dentro ok io ho il ricordo ma ho buttato fuori i sassi la mongolfiera sale la frequenza sale questo è il lavoro di sé su di sé più alte sono le nostre frequenze più le convinzioni sono potenzianti quali sono le convinzioni potenzianti la convinzione negativa quella limitante sono un fallimento totale la convinzione potenziante posso imparare qualsiasi cosa e tutto ciò che imparo porto a successo ho sempre successo in tutto ciò che imparo ed ecco sono due convinzioni però ho convinto quando l'ho installato con il comando MCA ho convinto la mia mente subconscia di appoggiare i miei obiettivi quindi la percezione del passato cambia posso liberare il peso quindi c'è il ricordo non c'è il dolore noi possiamo anche abbiamo ricordi del passato diverse diversi possiamo ricordare anche le cose belle e poi c'è un'altra cosa quando voi lavorate sulle frequenze sulle convinzioni sulle emozioni dopo arrivate al punto che cambia il vostro pensiero automatico e cambia da solo quando avete alzato le vostre frequenze cambiato il vostro mindset cambiato le emozioni il pensiero automatico cambia e questo è bello questa è l'indicazione che avete fatto il salto quantico che adesso non dovete fare altro che aspettarvi i cambiamenti all'esterno perché i cambiamenti prima avvengono dentro e poi si creano all'esterno che cosa altro vi dovevo dire prima o poi tutti devono imparare come lavorare all'interno questo è il modo di fare dell'uomo o della donna del futuro voi potete anche decidere no non lo voglio imparare ma prima o poi saremo tutti costretti a lavorare sulle nostre frequenze un po' come un tempo si usavano i telefoni quelli con filo con il quello che girava per i numeri adesso si usano smartphone non ci sono più i telefoni con i fili non c'è non c'è più il telefono quello con filo attaccato al muro adesso tutti si portano smartphone in giro quindi con evoluzione tutti sono costretti a saper usare smartphone così come magari adesso ancora andiamo a fare le operazioni al tabaccaio o alla posta col tempo faremo queste operazioni dai telefoni perché questo è il progresso questo è il progresso della tecnologia una volta si lavava a mano adesso si usa la lavatrice abbiamo cambiamenti in tutti i campi della nostra vita il cambiamento nell'evoluzione dell'uomo sarà questo questo chi non impara a lavorare sulle proprie frequenze chi non impara a riprogrammare la mente a cambiare le emozioni ad elevare le proprie frequenze rimarrà indietro e comunque faticherà triplo vedrà che tutti gli altri riescono a fare velocemente e quindi prima o poi si convincerà quindi la scelta è tua o stai al passo con i tempi e impari come diventare maestro delle tue frequenze oppure sarai sempre penalizzato sarai sempre indietro perché il mondo va avanti noi l'unica cosa che dobbiamo adesso veramente imparare è gestire le nostre frequenze la prima cosa perché quando hai imparato a gestire le tue frequenze quando hai imparato a cambiare il tuo mindset tu puoi fare tutto ciò che desideri perché è un modo è un metodo è un modo di vivere è un modo per realizzare tutto ciò che vuoi noi abbiamo sempre detto qua nel metodo MCA scopri i tuoi talenti e mettili al servizio degli altri e grazie a questo puoi vivere una vita abbondante abbondante di salute di autorealizzazione di soldi di relazioni ma alla base di tutto c'è un metodo è la capacità di gestire le proprie frequenze perché quando io so gestire le frequenze io posso esprimere qualsiasi desiderio mettere qualsiasi intenzione preghiera obiettivo quello come lo volete chiamare io esprimo ciò che desidero e poi lavoro sulle frequenze per riportare le frequenze al livello di quello che ho espresso in tutti i campi della vita quindi la prima capacità dell'uomo o della donna del futuro è diventare maestro delle proprie frequenze il 12 quindi tra una settimana martedì comincia metodo mca academy un corso nuovo un percorso nuovo dove ti guiderò per sei mesi e ti insegnerò tante cose praticamente metodo mca academy sono tre corsi in uno è un corso accreditato e certificato a livello internazionale alla fine ci sarà un attestato di partecipazione il link troverai nei post mi puoi contattare per conoscere i dettagli grazie e ci vediamo domani al workshop ciao ciao